Galletta, olio e cannella A me piace, provatelo Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video O meglio, dovrei dire, bentornati sul mio canale Sì, perché è una vita che non sto vloggando, che non sto facendo video E infatti sono stata un pochino assente su questo canale Tipo per due settimane, una o due settimane Mi dispiace, vi chiedo scusa E non sono giustificabile Sono semplicemente stata estremamente pigra E niente, quindi ok L'importante è essere tornati, essere carichi Io come vedete sono in tenusa da palestra Lo so, questa maglia non rende giustizia Ma ultimamente, cioè questo fine settimana Ho mangiato un pochino, sono andata al cinema Quando andiamo al cinema io e Paul, diciamo Il concetto di sano, il concetto di equilibrio va un pochino a farsi a benedire Quindi abbiamo mangiato un po' di schifezze Mi sento gonfia e questa maglia, per quanto non renda giustizia Almeno è comoda, bella larghina Come vi dicevo sono in tenuta da palestra Con la coda e l'outfit Ovviamente pantaloni di buffbanni che sono fantastici per allenarsi Ho pensato che sarebbe carino Iniziare a fare video Facendovi vedere che cosa mangio in un giorno I tipici what it in a day L'unica cosa è che mi sono alzata veramente presto Perché ora sono le sette Sì, mi sono alzata alle sei per fare colazione E sinceramente non avevo pensato di prendere la telecamera Quindi non vi ho fatto vedere la mia colazione Ma ultimamente mi sta garbando tantissimo Fare la tipica colazione all'italiana Proprio semplicissima Quindi ecco ve la posso dire anche a voce Perché tanto non era nulla di particolare Mi faccio in una tazza un espresso Ci metto del caffè proprio espresso Poi ci metto il latte caldo Questo qui è Parmalat Un latte parzialmente scremato Non è quello, come si chiama, senza lattosio Vorrei usare sempre quello senza lattosio Perché sinceramente mi ci trovo meglio Lo digerisco prima Però ecco mi adatto un pochino I miei comprano sempre quello Comunque quello che comprano i miei È quello che uso anch'io Perché sennò bisogna comprare Trenta tipi diversi di cose E non mi sembra il caso Quindi ho appunto preso Un gocciolino di caffè Un espresso E il resto della tazza L'ho riempito con quel latte riscaldato Insieme ho mangiato Il pan bauletto proteico Dell'S lunga Se metto a fuoco Solitamente ne mangio Tre fette Due tre fette Più tre che due Inzuppato nel latte È fantastico Infatti mi ha presa la fissa È una colazione veloce E poi mi sa molto più di appunto italiana Così E quindi sì Ultimamente sto mangiando questo Io ora sinceramente sto aspettando che Paul Venga a prendermi Perché anche lui verrà in palestra con me Siccome ho appena fatto una storia A riguardo Siccome la palestra mi ha dato un mese Da regalare a qualcuno gratis Io l'ho regalata a Paul giustamente E quindi ora per questo mese Verrà lui con me Poi dopo non lo so Spero che rimanga Spero che trovi il modo per rimanere E insomma vedremo un pochino Alle sette un quarto Mi dovrebbe venire a prendere Si è svegliata da poco Quindi non so se farà in tempo Però vediamo Abbiamo fiducia Ci vediamo per pranzo Spero il prima possibile Perché avendo fatto colazione alle sei Credo proprio che avrò fame Comunque ultima cosa E poi vi lascio andare Vi volevo dire l'allenamento di oggi Allora spalle e tre cipiti Eccolo lì Questo qui è l'allenamento Che andrò a fare stamani Tutto questo io vi saluto Noi ci vediamo per pranzo O per uno spuntino Non so se farò uno spuntino Se torno a casa presto Farò uno spuntino Comunque sia Ci vediamo per il prossimo pasto Grazie Ok ragazzi Ora spengo ci vediamo a casa Perché ho la batteria a scarica Sono appena tornata a casa Alla fine abbiamo dovuto accompagnare Anche il babbo di Paul In un posto Quindi ho fatto più tardi Di quello che pensavo Infatti è mezzogiorno e 22 E io sto morendo di fame Perché è dalle sei di stamani Che non mangio Ho fame E quindi preparerò una cosa Super veloce Perché non voglio stare A spadellare troppo Perché voglio mangiare subito È quello il mio obiettivo In questo momento Quando la fame chiama E la velocità Deve essere appunto Ci deve appartenere Non so che cosa dire Vabbè Quando si ha fame Le uova sono sempre La cosa migliore Perché sono super veloci Quindi mi farò uova Con albume Al tegamino E probabilmente ci mangerò Insieme delle gallette Perché ora mi è presa La fissa delle gallette Le gallette di riso Sono quelle che preferisco Prima mi garbavano Le più quelle di grano saraceno Però effettivamente Rimangiando quelle al riso Ho notato che sono Le più buone E prima mi garbava Mangiarle così Normali Mentre ora Le ho riscoperte Arrostite Le tengo tipo Cinque minuti in forno Anche meno Perché sennò si bruciano Diventano proprio come Popcorn Cioè sono veramente Veramente buone E di verdure Penso che mangerò Un po' Dell'insalata Dal sacchetto Perché appunto Non mi voglio mettere A cucinare Zucchine Carote Che ci vuole Troppo tempo Quindi Iniziamo subito A preparare Come vedete Il pranzo È servito Questo trucco Che ho usato Per cucinare le uova Ovvero mettere il tuorlo Soltanto una volta Cotto l'albume A fuoco Spento È un trucco Per far venire Il tuorlo In questo modo Molto bello Liquido Ora questo qui Mi si è anche rotto Mi è cascato Però per farvi Per farvi capire Una di olio A parte La mia lucidità Mi sono appena Mi sono appena fatta La doccia E ora andrò Da pool Lo aiuterò Sempre le solite cose Lo aiuterò Con video media E quindi Non penso che farò Merenda Perché appunto Mi interromperebbe Il flusso creativo Quindi ci vediamo Direttamente a cena Vorrei portarvi a giro Così Però sinceramente Non è che farò molto Cioè Non vi faccio vedere Nulla di particolare Perché non farò Nulla di particolare Quindi non vi porto Con me E ci vedremo Direttamente stasera E niente Vi volevo salutare Ok Allora ragazzi Sono appena tornata Da una camminata Di 45 minuti E sono stanca Mi pesano I piedi Le gambe Il pomeriggio di oggi Come potete intuire Si è svolto Con una bella camminata E poi Si ho lavorato Insieme a Paul Aless Insomma abbiamo fatto Un po' di cose Ho aiutato anche la Monica A sistemare il suo telefono Perché l'ha cambiato Da iPhone a Samsung Ma tutto questo È molto interessante Sono tornata a casa Sono tipo Le 6 e mezza Lo so ragazzi È presto per cenare Lo so Però sinceramente Non faccio molto caso A queste cose Io quando ho fame Mangio E mi capita spesso Che la cena appunto La faccio Un pochino prima O comunque sia Alle 7 Però Cioè non è che ho problemi A farla più tardi Capita delle volte Che la faccio All'8 e mezza Perché gli impegni Mi hanno portato A farla a quell'ora E cioè Che se ne frega Capito Però ecco Quando posso Se ho fame La faccio appunto Quando ho fame E tipo Ora posso Non ho nient'altro Da fare Quindi mi vado A preparare la cena Perché Ecco Così è Per cena Mi voglio fare Il salmone Con le zucchine Però questa volta Voglio cucinare Il salmone In padella Di solito Lo cucino al forno Però il forno Sarà occupato Dalla schiacciatina Di granun saraceno Che mi piace tantissimo Me la faccio da sola Ed è semplicissima Ha tipo Tre ingredienti Proprio nulla Diventa dura Tanto dura Ma a me piace un sacco È proprio Buona Stavo per dire Che non ve l'ho mai Fatta vedere Invece sì In un mio vecchio What it in a day Vi ho fatto anche vedere Come la facevo E la farò Nella stessa maniera Quindi Quindi Grano saraceno Acqua Un po' di lievito Per Per Pizze Focacce Così Questa volta ci metterò Anche L'olio Perché viene più croccante Più Friabile Croccante A me piace di più Quindi Ci metto anche l'olio Ok Allora ragazzi Vi ho messo Fuori dalla mia finestra Ho appena finito di cenare E sì Se sentite Il rumore di strada È perché Siete fuori Non so perché Ma oggi sono Incredibilmente stanca Forse È possibile Che tipo Tra Tipo una settimana Mi ritorni il ciclo Incrociamo le dita E quindi la stanchezza Potrebbe essere Dettata anche Da questo fattore Speriamo Non lo so Sono veramente Felice Di aver ripreso La fotocamera in mano Di aver di nuovo Registrato un video Perché Perché mi piace Alla fine Mi piace quello che faccio Ho deciso di continuare Questo progetto Su youtube E quindi Ovviamente Se ho deciso di continuarla Perché mi piace Mi dà soddisfazione E quindi Sono contenta Di aver registrato Un video Oggi Un'altra cosa invece Che vi avevo detto Su instagram È che avevo intenzione Di fare un giveaway Un giveaway Dove erano in palio Diciamo 20 barrette Della The Protein Deal Della Enerbit Non mi sono dimenticata Di questo giveaway Ogni tanto ve lo rammento Su instagram Nelle storie Soltanto il problema È che veramente Sembra una presa in giro Ma non ho trovato Il tempo Effettivo Di andare All'esse lunga A comprarle E Quell'una Due volte Che ho trovato Il tempo Non c'erano Tutte le barrette Che volevo Perché appunto Saranno 20 Quindi sono un numero Abbastanza importante E non sono riuscita A trovarle Abbiate di nuovo Pazienza Perdonatemi Però arriverà Questo giveaway Ve lo annuncerò Sia con un post Su instagram Sia qua Su youtube Se non mi seguite Su instagram Vi ricordo di seguirmi Perché appunto Se volete sapere Che cosa mangio Che cosa faccio Ogni giorno Li sono molto attiva E quindi Li potrete vederlo Con più Immediatezza Ecco Rispetto a youtube Vi ringrazio per la visione Se questo video vi è piaciuto Mettete un like Lasciate giù un commento E fatemi sapere Quale è il pasto Che avete preferito Vi ricordo Se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Per ricevere le notifiche Ogni volta che pubblicherò Un nuovo video Saranno di più Ve lo prometto Noi ci vediamo nel prossimo Vi do un bacione Buonanotte Ciao Ciao